scarta la carta scarta la carta mili accendini facci sognare ciao mitici video di unboxing e di recensione di queste cuffiette che sono realmente innovative questa è la scatola e questo è il power bank con cuffiette che ho già unboxato all'interno della confezione noi avremmo trovato il suo cavo una bella custodia per trasportare le cuffiette ma si eccola che non la vedevo che è questa e cuffiette ma io le userei senza perché voi se uno c'ha paura di graffiarle ecco si mette qua dentro allora andiamo direttamente al punto ragazzi poi bluetooth 5.0 ma la caratteristica che mi sembra più interessanti questo dispositivo è i 6000 mili ampere della batteria normalmente questo tipo di cuffiette io le apro ve le faccio vedere normalmente questo tipo di cuffiette ha un power bank più o meno di queste dimensioni che ha però la funzione di ricaricare solo esclusivamente le cuffiette ebbene qua ragazzi il power bank l'hanno raddoppiato due volte e mezzo rispetto ai power bank per solo le cuffiette ma ha la capacità di dare corrente al nostro telefono praticamente dalla mattina alla sera perché 6000 mili ampere ricarica una volta e mezza ad esempio il il mio telefono note e i telefoni che hanno la batteria più grande se noi altri telefoni li ricarica per ben due volte quindi vuol dire che avremmo autonomia può andare bene come power bank non c'è bisogno di portarsi dietro un altro power bank perché porta il power bank però automaticamente vi portate sempre dietro le cuffiette sempre cariche molto carino il fatto che c'è un indicatore della carica vedete qua indica 40 per cento quindi indicatore digitale che qualora andiamo a sollevare rimane comunque visibile vedete non ci capita fuori la scritta il meccanismo di sollevamento è carino c'è questo scatto tic tac ok le cuffiette sono non facilissime da da togliere vedete non c'è una presa un modo di premere che toglie c'è la calamita le lascia ben attaccate però si tolgono però non è proprio non è non è rose e fiori il modo di di estrarle puoi mettere il dito alla fine si tirano fuori senza problemi però adesso fammela dire fuori sono sempre che non sono buona tirarle fuori allora eccolo qua si prendono si tirano fuori questa è quella che c'è davanti a me quella che vanno all'orecchio sinistro ok faccio vedere come la metto si mette così ti rimane il suo bottoccione in vista che è un touchscreen quindi molto comodo col fatto che sia che sia touch allora le due cose che non mi sono piaciute è il fatto che per toglierle ci si riesce però non è facilissimo e adesso l'ho tolto e l'ho accoppiata al tablet di là si è accoppiato si è accoppiato al tablet che si trova dall'altra parte di casa praticamente immediatamente appena tolte ma fatto connected connected una cosa interessante è che mi aveva connesso già solo il sinistro a volte devi mettere per forza al destro per poter con il sinistro invece aveva già connesso aveva già connesso da solo anche il sinistro chiaramente le possiamo utilizzare anche per parlare al telefono ci hanno scritto qua la l per fatti capire che è dal lato destro sinistro la dimensione è grande questa dimensione qua e secondo me ha un suo scopo sono me gli ingegneri che hanno progettato hanno utilizzato questo spazio per dargli cassa di risonanza perché rispetto alle decine di altre cuffiette che ho che ho provato io qui ho sperimentato una sensazione di isolamento dal dal contorno più forte un po come se se questo spazio qua potesse fargli da cassa di risonanza per poter per poter creare un suono più coinvolgente quindi mi hanno colpito sì per questa cosa qua che ho detto sarebbe ora tante volte l'ho fatto quando facevo le recensioni fatela un po più grande date la possibilità di ricaricare anche i telefoni c'era chi l'aveva inventata wireless però alla fine wireless le ho provate ma mentre cammini mentre si è seduta al tavolo sì ma mentre cammini è un po è un po più scomoda per la wireless è più facile con un bel cavo magari questo in dotazione al suo corto che comunque attacca avete potete utilizzarlo sia per caricarlo è un usb tipo c qui in caso è attaccato dentro usb tipo c al contrario invece vogliamo dare corrente al telefono prendiamo e facciamo così diamo corrente al telefono adesso vi faccio vedere anche qua ragazzi uno è l'ingresso e uno è l'uscita e lo stesso cavo a secondo di come lo lo mettiamo lo possiamo utilizzare come cavo in uscita di corrente automaticamente da corrente non c'è un pulsante on off se c'è la batteria con energia c'è il telefono che richiede corrente automaticamente va a dare corrente al telefono mentre nel caso di ricarica basterà invertire il cavo e andiamo a ricaricare leggendo le specifiche fa vedere che supporta vari protocolli a 2 dp hfp hsp avrc vabbè queste sono tutte quante sì il tempo di ricarica è tre ore il tempo di ascolto è di tre ore e mezza con la musica tutto volume e il diametro lo speaker è di 8 mm e tutte le altre caratteristiche ve le lascio nel sito amazon che vi lascio in descrizione finalmente finalmente ci hanno pensato guardate questa è da 6.000 mAh e quindi vuol dire che le batterie anche le hanno ridotto di spessore perché una volta con una batteria così non ci si riusciva da 6.000 mAh magari questa era una batteria da 5.000 mAh con queste dimensioni e tutto sommato è dimensioni ridotte questi invece riescono a darti 6.000 mAh e lo spazio per le cuffie quindi vuol dire che la batteria vera e propria ha questo spazio qua ecco la batteria vera e propria ha questo spazio qua quindi magari avranno utilizzato il punto perché un pochettino spessa per mettere all'interno i circuitini però però mi sembra una bella una bella opera di ingegnerizzazione modello T9 input 5 volts e 2 e output 5 volts e 2 capacità 6.000 mAh ottimo ragazzi ottimo così uno esce col power bank e quando gli servono le cuffie dice ah non è riuscito apposta con le cuffie però ce l'ho sempre dietro sempre un bel paio di cuffie dietro poi le ho abbinate una cosa l'ho abbinata un altro e se ricordate dice come ha detto connected dispositivo number 2 quindi aveva già memorizzato che il fatto che si era che si era connesso con un dispositivo diverso ma è la prima volta che mi che mi arriva questo tipo di messaggio qua chiaramente nella confezione abbiamo anche i gommini per poterli adattare ai vari tipi di orecchi e link Amazon in descrizione ragazzi batteria continua a segnare il 40 per cento vuol dire che in questo momento sta caricando sta caricando quando vi arrivano vi arrivano con due pezzettini di plastica è importante questo perché quasi non ci si fa a caso adesso me li trovo a due difetti che vi devo dire uno lo schermo raccoglie polvere cioè si vede la polvere è troppo lucido magari avrei preferito una soluzione meno meno lucida chiaramente su questi materiali qua si vede la polvere 2 la presa che ci si riesce ma non è proprio non è proprio immediata e quando vi arriva vi dicevo qui in questi gommini qua in questo punto qua ci sta della plastica per evitare che durante il viaggio la batteria continua a ricaricare gli auricolari e magari va arriva la batteria scarica allora allora ci stanno dei gommini ma questo me l'ha capitato già in altre ricorali che vanno tolti delle pellicoline ecco ricordate perché sennò magari ve lo comprate e poi pensate che il telefono non si scarica ma non si ricarica quando arriva quando arriva era tutto quanto già carico però le cuffiette magari magari era carica che ne so 20 per cento 30 per cento vanno una volta tolto il suo gommino vanno lasciate sotto carica un pochettino per avere per avere una carica più soddisfacente bene ragazzi link amazon in descrizione ciao mitici